A guardare fisso Centro spirituale Frattocchie, attraverso Flora, a cura di VB, guida. Puoi constatare la veridicità di questo discorso, mettendoti a guardare fisso una stella a tua scelta. Avrai una piacevole sensazione di tepore dopo un po'. Potresti anche avere una sensazione di rifiuto del mondo. In questo caso, se guardare le stelle ti metterà tristezza, sarà per te comunque un messaggio. Riesci ad assimilare meglio le onde pesanti e distruttive che non quelle benefiche. In questo caso, respira più profondamente durante tutta la giornata, prendi bene le sostanze che sono nell'aria e che servono all'organismo per funzionare bene e renderti quindi più leggero. Continua poi a respirare profondamente nel guardare direttamente una stella. Se la tristezza persisterà, sdraiati, rilassati e immagina che quella stella che guardi sia tua madre o una persona a te molto cara che solo a pensarla ti dà gioia. Continua a guardare la stella senza pensare a nulla. Vedrai che la sensazione che avrai sarà di pienezza e gioia. Avrai assimilato un'energia quasi nuova per te, un'energia potente. Tu stesso ti sarai messo nella condizione di recepirla. Quindi non ringraziare la stella che ha continuato ad essere ciò che da sempre è, ma sii consapevole di cosa puoi tu stesso. Grazie. 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 Grazie.